ciao a tutti ben ritrovati sul canale di fabione in the kitchen tanti di voi non amano il pesce però tanti di voi amano le patate quindi perché non fare dei filetti di orata in crosta di patate penso che accontenteremo tutti è arrivato il momento di farle vi lascio la ricetta che sembra difficile però in realtà è facilissima come tutte le mie ricette se non riuscite a sfilettare voi l'orata chiedete al pesci vendolo che lo farà volentieri o se non lo farà volentieri lo farà comunque venite a vedere come si fa ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.